Musica Bella a tutti ragazzi, io parlo Fox Sound Oggi noi qui su Call of Duty Black Ops 3 Per parlarvi raga di una cosa che me ne sto rendendo veramente conto E non so voi se minimamente ve ne siete resi conto Ma ormai COD è popolato da persone che hanno raggiunto il presigio massimo con livello 1000 Io raga prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciarmi a questo video per supportarmi E di iscrivervi al canale se non siete ancora per non perdere i prossimi video Mi raccomando raga fatemi sentire il vostro supporto lasciando tantissimi like a questo video Raggiungiamo raga almeno 300 like e adesso possiamo iniziare subito con il video Allora raga come avete ben capito dal titolo e soprattutto dall'anticipazione appunto che ho fatto prima Sono qui per parlarvi raga della cosa che ormai sapete tutti Di una cosa appunto che ormai sapete tutti Ovvero appunto che ci sono troppi e troppe persone che sono a livello 1000 del maestro prestigio Voi vi starete sicuramente chiedendo ma com'è possibile che questi qua si sono fatti tutti questi livelli Staranno nerdando, staranno facendo le peggie cose No raga purtroppo non è una cosa di nerding e cose del genere È semplicemente raga un glitch Quindi non è nemmeno una mod quindi per le persone che stanno dicendo esiste una mod su PS4 No raga è semplicemente un glitch che consente di sdoppiare i profili che hanno già magari un livello 1000 Però fatto onestamente appunto duplicando le statistiche tutto il livello eccetera eccetera Appunto nel nuovo account quindi nel suo account che magari aveva un livello così 3 del terzo prestigio un esempio Quindi è proprio questo che consiste il glitch appunto copiare delle statistiche del livello e del prestigio di un altro profilo nel proprio Quindi raga purtroppo questo glitch esiste e quindi ormai siamo popolati da persone che hanno il livello 1000 del maestro prestigio Sinceramente raga è una cosa che a me infassilisce molto perché il gioco comunque sia non è su all gen Cioè potrei capirlo su all gen che appunto su PS3 e su Xbox 360 Però raga su next gen su PS4 non posso pretendere appunto che succeda una cosa del genere Io spero veramente raga tantissimo che la Treyarch appunto risolva il problema perché secondo me non è giusto raga nei confronti delle persone appunto che stanno giocando tranquilli Perché vedere un maestro prestigio livello 1000 che fa 0-30 perché comunque sia non è bravo a giocare Magari appunto si è fatto glitchare l'account se può dire così Secondo me è una cosa sbagliatissima Ma diciamo che su GTA ci sta pure perché su GTA comunque il fatto che il rango comunque sia non è la cosa più importante del gioco Ma su COD raga un gioco dedicato solamente appunto a fare deathmatch e cose del genere Quindi proprio un gioco più competitivo rispetto a GTA Vedere una cosa del genere secondo me non è veramente una cosa possibile secondo me giusta Io non lo so questo era il video questo appunto era il video che volevo fare raga per informarvi di questa cosa E soprattutto non chiedetemi nei commenti se farò mai una cosa del genere se farò mai un glitch del genere E appunto portarlo sul canale perché non porterò glitch del genere Non perché appunto non voglia portarlo perché vi voglio fare un torto Semplicemente raga perché io sono contro questa cosa Ebbene si voi state dicendo Evoke Found tu sei in mod contro queste cose Sì raga io sono contro queste cose perché su COD e su PS4 soprattutto su PS4 Non è assolutamente giusto essendo una console nuova E appunto si succedono queste cose secondo me è una cosa veramente sbagliatissima Io non so fatemi sapere voi cosa appunto ne pensate qui giù nei commenti Mi raccomando raga fate scrivetemi appunto la vostra opinione ciò che pensate Quindi nulla spero questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un like a questo video per supportarmi E di iscrivervi al canale se non siete ancora per non perdervi i prossimi video Mi raccomando raga fatemi sentire il vostro supporto lasciando tantissimi like a questo video Passate un'altra pagina Facebook nel profilo di Instagram E troverete giù nella descrizione Noi ci sentiamo in un prossimo video Un saluto da Foxound Bella